caro carburanti da oggi l'effettivo taglio sui prezzi come hanno reagito i tuoi clienti allora praticamente noi l'abbiamo abbassato ieri verso mezzogiorno e mezzo l'abbiamo abbassato immediatamente dopo che è arrivato di 25 centesimi sia il gasolio che la benzina e abbiamo già visto gli effetti che già ieri sera c'erano praticamente file di macchine che si rifornivano questa mattina più o meno la stessa cosa e oggi pomeriggio dalle due e mezza fino ad adesso è iniziato anche con il camion avere la fila appunto per rifornirsi allora stando a quanto annunciato nella gazzetta ufficiale è stato abbassato di 30,5 centesimi alla pompa ed è così effettivamente effettivamente è così si vede già comunque un po differenza però molta gente ancora paura che entro un mese si rialzino i prezzi dunque tende a come si dice aspettare tendono a aspettare un po per vedere come va la situazione molti mi chiedono se effettivamente i prezzi si abbasseranno ancora noi come operatori del settore non sappiamo non sappiamo molte non sapete cosa rispondere giustamente esattamente